Buonasera a tutti, oggi è il 22 gennaio 2019 e guardate con chi sono, ragazzi, con Marcello Simoni e canteremo per voi Romagna Mia. Vai, uno, due, tre. Romagna Mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Zun, 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 zun. Salute a tutti, ciao, ciao.